Musica Bentrovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per martedì 15 novembre. Dall'osservazione delle immagini satellitari possiamo notare questa vasta perturbazione a interessare il bacino del Mediterraneo ed apportare fenomeni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Nel dettaglio al mattino sull'Abruzzo troveremo deboli fenomeni di instabilità soprattutto lungo il Pescarese e sul Basso Chietino, mentre sui restanti territori avremo condizioni di cielo coperto. La ventilazione risulterà sostenuta dai quadranti settentrionali e di mari generalmente mossi. Nel corso del pomeriggio le condizioni meteorologiche vedranno un primo lieve miglioramento con i cieli che si presenteranno nuvolosi o coperti su gran parte del territorio, ad eccezione del Basso Chietino dove saranno possibili ancora deboli precipitazioni. Le temperature risulteranno ancora sotto media stagionali di qualche grado. Nel corso della sera le condizioni meteorologiche vedranno un netto miglioramento con i cieli che risulteranno prevalentemente nuvolosi o poco nuvolosi su gran parte del territorio. Per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento. Grazie per la visione!